Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova Night Session. È venerdì 16 settembre, sono le 22.19, sono in anticipo rispetto al solito, ma intanto vi farei iniziare a vedere un paio di cose. Uno, estrema lateralità durante la giornata, fino a che a un certo punto nel pomeriggio finalmente abbiamo avuto un minimo di scossa. Ma attenzione, prima abbiamo quasi creato un vincolo sull'inverso, perché, guardate qui, a 29 barre si poteva pensare che con una salita superiore, dopo una discesa, ci sarebbe stato appunto un vincolo sull'inverso che ci avrebbe portato a salire, cosa che poi non è successa. Finta rialzo, ribasso. Oltretutto ribasso con questa candela, poi tutta una sequela di candele a discesa. Come vedete, la giornata delle tre streghe può riservare sorprese, può riservare finte, può diventare laterale. Come vi dicevo, non ho assolutamente toccato un mercato che fosse uno, non ho guardato criptovalute, ho soltanto ragionato. Ragionato di cosa? Ragionato del fatto che, come si diceva qualche analisi fa, ci poteva ancora essere discesa. E, dato che noi ragioniamo in termini matematici, qui siamo a 10 barre su massimo 11, ovvero domani, ed eventuale spike di minimo e risalita. Quindi il nostro conteggio si ferma a, al massimo, ancora una discesa per domani, più una coda di discesa per dopodomani e poi risalita. Questo perché? Perché da qui è partito appunto un settimanale che è arrivato a 10 giorni, ciclo T settimanale, è il primo del T più 1 e del T più 2 che ci aspettiamo potenzialmente di partire qui perché ci sono tutte le condizioni per la partenza, sia lo swing che il tempo. E a questo punto stiamo aspettando che l'inverso ci racconti qualche cosa. Prima di tutto vi faccio notare un'altra cosa interessante. Qui, con un ad oggi di questo tipo, chi ha voluto anticipare il mercato perché ha detto, ok, discesa, doji che significa pausa, downtrend, mettiamoci long, si è ritrovato a perdere il giorno dopo e perdere ancora di più il giorno successivo. Questo perché se non si opera con gli swing si rischia di farsi male. Anche in questo caso, qui di nuovo, se chiudessimo con una doji di questo tipo, il discorso è che potremmo andarla a negare perché andando sotto il minimo a 19.347 che ha fatto per adesso, tra l'altro, il giorno successivo andremmo a negare di nuovo un tentativo di pausa da questo trend discensivo. Come vedete, anche le candele giapponesi prese fuori dall'evoluta non riescono a proteggerci da possibili perdite e soprattutto da tutto ciò che succede quando uno inizia a vedere che si aspettava rialzo ma poi c'è stata una negazione, l'annullo della candela. Poi di nuovo un'altra candela ma ripetiscono e abbiamo ancora domani e un pezzo di dopodomani al massimo per una possibilità di discesa. Guardiamo l'inverso. L'inverso ha fatto una, due, tre, quattro candele. Con quattro candele che cosa parte? Sono quattro candele di un ciclo rialzista per adesso per l'inverso perché si parte da massimi si va verso minimi e rialzo questo. Sto spingendo più possibile verso il basso. In questo caso abbiamo delle cose interessanti da dire ovvero con un T-1 rialzista con un ciclo a quattro giorni in media rialzista diamo vita anche a un T-1. Se rimarremo sotto questo massimo a 22.794 dollari per ancora due candele intere a quel punto lì avremo un settimanale inverso che può dar vita a che cosa? Settimanale inverso rialzista ovvero che scende e la condizione necessaria sufficiente con l'aggiunta se possibile di uno swing della violazione di uno swing di minimo per andare a far partire che cosa? Un secondo mensile inverso. Primo mensile inverso che è fatto ben 29 barre secondo che è soltanto a 4 quindi due giorni di attesa anche in questo caso che non si vada subito qui sopra per ora non c'è pericolo anche se la forma della candela sta diventando un hammer ok però questo è ciò che ci si può aspettare entro un determinato tempo grazie all'evoluta abbiamo il tempo dalla nostra per cui questo è quanto? questo è il programma avete già idea di che cosa potersi aspettare ricordiamoci che comunque con un T settimanale come detto rialzista e questo è neutro comunque il neutro va bene o neutro o rialzista anche da qui sta partendo almeno un mensile non un T più 3 e dato che potremmo essere tra un T più 3 un ciclo trimestrale e un secondo trimestrale potrebbe essere ancora un raccordo non ci sono ancora conferme perché si può arrivare a 11 giorni tra un trimestrale e un trimestrale può esserci un raccordo una finta rialzo con ribasso ok quindi non sappiamo ancora in che condizione siamo per cui che cosa fare dato che peraltro oggi sono ancora le tre streghe per bitcoin non ci muoviamo e aspettiamo anche perché come detto nelle precedenti analisi ancora discesa si 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 può ancora scendere per il tempo che vi è già ribadito passiamo al grafico a 45 minuti la gente dice ma il grafico 45 minuti lo utilizzano tutti non è che stanno copiando te e no non è così se andate a vedere le analisi anche soltanto delle persone che adesso appunto utilizzano un grafico 45 minuti su bitcoin andate a guardare quando ho iniziato a farlo perché prima che iniziassi io non lo faceva nessuno questi sono i fatti ok anche perché c'è una stretta relazione tra l'evoluta e questo time frame se non si fa evoluta questo time frame potrebbe non contare assolutamente nulla per cui è semplice è così è un dato di fatto noi abbiamo un perlomeno T settimanale iniziato da qui che dato che è arrivato a 10 giorni può lanciare anche un mensile nuovo che è superato peraltro anche per lo swing un mensile non un trimestrale come abbiamo detto se tracciamo un ritracciamento di Fibonacci vediamo che siamo arrivati pesantemente sotto il 50% e oltre il 61,8 ritracciamolo ancora una volta così per farci per vederlo a livello visuale ok e come vedete qui qui siamo andati probabilmente all'80% di ritracciamento per cui abbiamo avuto proprio una gran bella finta rialzo con il basso fortissimo e pesantissimo che ha piegato una media mobile che stava andando a salire l'ha piegata al suo volere e l'ha portata a un death cross che poi è scivolato proprio con la media mobile in rosso sotto il livello inferiore dell'acumo quando in realtà come vedete prima vi si appoggiava sopra golden cross salita fortissima e appoggiamento sotto anche la media mobile ha tagliato irrimediabilmente insieme dopo ovviamente i corsi dopo i prezzi di bitcoin la cumo è iniziato a trasformarla appunto da nuvola verde a nuvola rossa a questo punto come detto dopo queste finte vediamo se qui ha voglia di partire qualche cosa di diverso da un decimo t-3 io per ora l'ho marchiato così cosa abbiamo fatto nel gruppo premium abbiamo messo un allarme a 19.894 dollari perché nel caso si andasse sopra nei tempi corretti noi potremmo continuare a salire salire non soltanto per la chiusura del quarto t-3 inverso ma anche per la chiusura di un t-1 inverso complessivo e per chiudere un t-1 che sarebbe appunto questo tipo di ciclo c'è bisogno del cosiddetto baffo attenzione che si può chiudere anche senza andare qui sopra noi però l'allarme l'abbiamo messo per poter operare eventualmente entro una certa candela dopo ci serve abbastanza poco se andassimo però in violazione violeremmo anche come vedete la media mobile a 50 periodi violeremmo il livello inferiore ed eventualmente superiore della cumo e dato che per ora siamo tanto indietro come tempo perché siamo ancora appunto a 12 bar appena fatte sul minimo 24 lo spazio c'è ma attenzione oltre a questo incrocio che è quello che mi interessa per valutare posizioni long col money management non mi muovo prima assolutamente attenzione che comunque c'è questo swing quello a 19.347 dollari che implicherebbe ancora un giorno di discesa perché questo per ora può essere un mensile con pochissima forza rialzo ma potrebbe anche rivelarsi come detto un raccordo di grado t settimanale tra un t più 3 e un t più 3 e guarda caso tra un trimestrale e il successivo trimestrale ci può essere soltanto un raccordo di questo grado grado t settimanale non ci sono altre particolari cose da raccontarsi se non che dopo la prima informata di oltre 40 persone stiamo inserendo piano piano gente tutti i giorni verificando che i 4 passi vengano fatti se non avete un profilo facebook e volete comunque entrare nel gruppo mi dispiace il tassativo dovete ragionare di che cosa volete fare ok tanto è facile fare tante cose con facebook senza dare dati vanno dati tutti i dati relativi alla fatturazione quindi nome cognome codice fiscale luogo e città dove si abitano sono importanti non mettete solo il cap continuiamo a vedere gente che mette la via il numero civico il cap ma non mette la città alcune piccole città hanno tutte uno stesso cap fateci questa gentileza mettete la città altrimenti aspetterete passate in coda quelli che entrano nel gruppo premium leggete con molta attenzione la mail stessa cosa ovviamente per gli appunti altrimenti non entrate o entrate più tardi altra cosa interessante da raccontarsi è domani probabilmente potremmo avere un certo tipo di movimento ma anche domenica i mercati sono chiusi quelli tradizionali giusto? che cosa hanno fatto i mercati tradizionali? oggi andiamo a prenderci magari l'S&P 500? eh l'S&P 500 è salito non è sceso la correlazione si slega molto spesso quindi a cosa serve? seguire la correlazione? niente come vi dicevo dimostrazioni varie se ritorniamo appunto al grafico a 45 minuti mentre si scendeva qui si è iniziato invece a salire ok dato che qui si è iniziato a salire siamo arrivati a 22 barre 22 barre praticamente vincolando che cosa l'inverso vi faccio vedere S&P 500 per farvi capire che appena si vincola l'inverso e si può se si supererà la media mobile proseguire a salire e chiudere guarda caso tra l'altro un T-1 può partire a un certo punto un T settimanale dopo anche in questo caso una condizione necessaria e sufficiente per la chiusura di che cosa di questo settimanale è diventato ribassista ribassista non per tanto anche questo tra virgolette puzza un po' di raccordo d'accordo per cui vi faccio vedere cose differenti anche perché chi ha iniziato magari a fare trading sul bitcoin perché si guadagna tanto si renda conto che anche con i mercati normali tradizionali si può guadagnare tanto e ribadisco noi abbiamo fatto 6 operazioni su 6 in gain mentre intanto aspettavamo che bitcoin facesse quello che dov'era non mettendoci a ribasso che sarebbe stato rischioso perché violazione di questo minimo rimbalzo violazione tardiva rimbalzo o ci sia o si sceglie di vedere pochissimo la differenza tra i 19.624 dollari e i 19.508 ma attenzione è un miracolo vendere sul minimo assoluto ok oppure è talmente poco quello che si può guadagnare da uno short che non ha molto senso probabilmente ancora valutarlo se c'è una possibilità invece molto più alta che si salga perché se qui siamo arrivati a nono t-3 noi abbiamo ancora una possibilità un pezzetto di scendere come detto un giorno più una spike contro quante di salire un po' quelle che potete vedere qui quando è partito il t settimanale quindi operiamo con questo metodo non in altri modi non con interpretazioni o altro vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida serata mettete anche voi gli allarmi e preparatevi arrivederci vi ringrazio per la